Va benissimo ragazzi, va benissimo Pareggio contro lo Sturm va bene, va bene Siamo a 5 punti in Europa League E questo secondo me è un girone clamoroso Perché è un girone equilibratissimo E con 4 squadre a pari punti A 5 punti ragazzi, la Lazio, lo Sturm, Graz Poi anche il Feyenoord e il Finland Allora, riguardo la partita che posso dire? Sapete che a me non piace parlare di arbitri Ma, cioè come faccio a far finta di nulla ragazzi? Cioè, Lazzari si è fatto espellere per Non so cosa stava vedendo l'arbitro Ma, cioè come fai a buttare fuori Lazzari così? Boh, va bene, non importa Poi Immobile che dà uno spintone, si prende il giallo E guardate, meno male che dopo non è andato a protestare E non ha mandato a quel paese l'arbitro Perché se no andava fuori anche lui E con 2 in meno ragazzi, era finita, perdavamo Adesso comunque non è successo nulla Perché abbiamo ancora altre due partite E possiamo tranquillamente arrivare primi Come possiamo anche arrivare ultimi però, eh Perché qua in calcio è imprevedibile Poi, soprattutto in Europa, no? Però, cosa dicevo io Già dall'andata? Occhio perché secondo me era un pareggio Conquistato E ovviamente Con difficoltà Ma soprattutto Io sapevo che era una partita difficile E molti che mi dicevano No, ma cosa dici? Bisognava stravincere Era una squadretta Eccetera, eccetera L'ha detto anche Sarri Prima della partita E di ritorno Che è una squadra che Lo Sturma è una squadra che Gioca con intensità alte È una squadra difficile da affrontare E con... È più forte Del previsto Però Lo dice lui ovviamente Ci credono Ma io l'ho detto prima ragazzi Ma nessuno mi credeva È una squadra tosta Ha qualche giocatore Tecnico come Boving Che non so Se è giusta la pronuncia Comunque che ha segnato due gol Ma lui Quando erano in superiorità numerica Lui aveva sempre lo spazio per tirare Appunto perché era un uomo in più Sarri che ha fatto? Ha fatto bene dopo l'espulsione Di Lazzari A mettere A sostituire Zaccagni Quindi un attaccante Per coprirsi Di più Al posto di Lazzari Ha messo Yuzai E dopo ha fatto entrare Marusic a sinistra Ecco però Da quel momento Loro Quando sono entrati nel secondo tempo Ci hanno sovrastato Perché erano in uno in più Già la loro intensità era alta E comunque Hanno una squadra Erano una squadra compatta E che Ci provava E attaccava Molto Noi partivamo In contropiede E che spesso Non ce la facevamo Ovviamente Prima era passato In vantaggio immobile Su rigore Che secondo me Era rigore netto I danni Mi sembra che erano Zaccagni Quello che si è fatto fare In fallo Comunque dopo l'espulsione Sono entrati Meglio loro Ma appunto Perché noi eravamo In inferiorità numerica Ma dopo Ragazzi Sarri Quando abbiamo subito Il gol Del pareggio Allora È cambiato tutto Sarri ha detto No Io qua voglio provare A vincere E ha fatto bene E ha messo in campo Milinkovic Vessino E togliendo Cataldi Che è stato Purtroppo Lui ha fatto un errore Ha perso il pallone Poi Ghila Era scivolato E quindi Già erano in superiorità numerica E non si sono fatti pregare due volte E Boving L'ha Assegnato E il gol del pareggio Ma Quindi In quel momento Sarri Ha voluto cambiare Ha messo Ha tolto Subito dopo Il gol subito Ha tolto Cataldi Che secondo me Tutto sommato A parte quell'errore Aveva fatto anche Una discreta partita Ha messo Ha tolto anche Luis Alberto E anche Basic Quindi ha rivoluzionato Il centrocampo Ha messo solo due A centrocampo Ma molto fisici E anche tecniche Come Vessino E Sergei Milinkovic Savic E Ha messo anche Felipe Anderson In modo da avere Il solito tridente Adrella davanti Per provare a vincerla Però A centrocampo Ave ti mancava Uno in mezzo E si è sentito Ma meno Perché te Lanciavi il pallone A Milinkovic Che si inventava qualcosa Ma quanto è forte Milinkovic E quando Milinkovic Comunque si inventa Le sue giocate Ha entrato subito Ha fatto un assist Della madonna E che per poco Segnavamo Comunque anche nel secondo tempo In meno Che eravamo In dieci Ragazzi Ci abbiamo provato Abbiamo avuto noi Le occasioni più nitide Per segnare E per vincere E che E siamo dati anche in vantaggio Intanto c'è stato L'attraverso di Pedro Che Pedro Mamma mia 35 anni Ma Cioè corre Lui sempre C'è sempre Ha qualità Perché è impressionante E corre sempre È instancabile Poi Comunque Immobile Che ha segnato Nel secondo tempo Diciamo che Spesso Ho visto Immobile Non solo in questa partita Ma in generale Che si mangia E cicca molte volte Il pallone Dopo Per carità Lui segna Il migliore Della storia Della Lazio Anche in Europa League Adesso Che ha segnato Di più di Inzaghi Però Spesso sbaglia Ci servono Tratiri Per E due volte La cinca a uno C'entra la porta Cioè capite bene Che Questo gran fenomeno Non è comunque Teniamocelo buono Perché Senza di lui Ragazzi Abbiamo già visto Che la statistica Dice che Spesso perdiamo E io Delle statistiche Mi fido Allora Pedro che Ha Preso la traversa E dopo E dopo Ha anche segnato Ci ha portato in vantaggio Con un bel gol Ma Non è bastato Perché dopo C'è stato Di nuovo Lo Sturm Che ci ha ripareggiato E quindi Complimenti comunque Allo Sturm E al loro allenatore Che Hanno preparato Questa partita Nei migliori dei modi Sono stati bravi Purtroppo È stato un po' Condizionata Davvero Dall'arbitro Questa partita E era una partita Anche che Si è fatta sentire Anche Si sono create Delle risse Diciamo Cioè Risse per modo di dire Ma comunque Degli scontri Tra dei giocatori C'era un po' Di nervosismo In campo Pareggio che comunque Ripeto Secondo me Ci sta Perché era Una partita tosta Difficile E in campionato Secondo me Sfidi una fiorentina O squadre Di questo calibro Secondo me Sono più facili Da sfidare Per la Lazio Rispetto a queste squadre Come lo Sturm Eravamo in casa Anche tra l'altro Quindi E il pareggio Dell'altra volta Era oro Secondo me Quello in casa loro E che molti mi dicevano Eh vabbè Non capisci niente Perché Là dovevamo vincere E non possiamo Accontentarci del pareggio Questa volta C'è amarezza Perché potevamo vincere Ma ragazzi In calcio è così Ci va bene Così Teniamo il punticino Andiamo avanti Adesso c'è il Feynord E prima il Midilland Dopo il Feynord E dobbiamo fare Conteggio pieno Se vogliamo passare Come primi Nel girone E dobbiamo farcela Ma soprattutto Abbiamo le capacità Per farcela Ma possiamo Cioè ci riusciamo Sicuramente Poi Immobile Le gioca tutte Era anche Finito Ha fatto bene Sarri A cambiarlo Ha messo cancellieri Come Come punta E diciamo che È entrato bene Diciamo E All'ultimo Momento Abbiamo avuto anche Un'occasione Per Per il 3 a 2 Ragazzi Peccato se lo faceva Scendeva giù L'Olimpico Comunque Era stato Abbiamo creato Molte occasioni E ripeto C'è amarezza Potevamo fare Di più Potevamo fare Di più Forse Però Comunque Non sempre Le cose vanno Come noi vorremmo Quindi va bene così Adesso puntiamo Il campionato Occhio Perché abbiamo L'Udinese Non sarà affatto Semplice Perché L'Udinese Quest'anno È una squadra Una squadra tosta Che gioca bene E vedremo Insomma Contro L'Udinese Che faremo Comunque Alla Lazio Per ora Non posso dire niente Perché stiamo facendo Un ottimo campionato In Europa League Discreta Diciamo E siamo forti Quindi Occhio Ecco Però Stavolta La difesa In Europa League In generale Pecchiamo un po' Comunque Va bene Che Sarri Faccia girare Di più I calciatori In Europa League Ci sta Ecco Io farei giocare Un po' di più Romero Ma vedremo Fino adesso Ha avuto partite Difficili In Europa League La Lazio Quindi magari Sarri ha preferito Non mettere cancellieri Rispetto a lui Ci sta Non voglio criticarlo Basice Finalmente ha giocato Un po' di più Perché come detto Anche Sarri Nel pre-partita Si era dimenticato Troppo spesso Toma Basice Ultimamente E quindi Ecco Ha fatto bene A farlo giocare E Portiere Provedel Diciamo che Poteva far meglio In entrambi i gol Secondo me Ma comunque va bene È un ottimo portiere Cerchiamo di tenerselo E Si vede che mancava Romagnoli Ecco Patrick E Romagnoli Sono sicuramente più fidabili Detto questo ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto In altra scheda video precedenti Sotto in descrizione Il link per seguirmi Su Instagram E degli altri miei due canali YouTube Se volete iscrivetevi Se volete Attivare la campanellina Se volete condividete il video E niente Io vi saluto Vi ringrazio Sempre faccio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti